Allora Manfred, perché squadra tiffi? Beh, purtroppo c'è derby qua e Inter, sono uno dell'Inter, però comunque mi sto bene qua a Milano e siamo in casa anche se siamo qua dal Milan oggi. Eri venuto a San Siro a vedere qualche partita? Sono stato a vedere la partita sia dell'Inter che del Milan, per quello mi piace il calcio, ho sempre seguito il calcio, ho giocato a calcio e mi piace. Invece parliamo di sci, all'inizio della stagione dicevi di non essere tanto pronto in gigante, alla fine qualche sprazzo di buono sci l'hai fatto vedere a Solden, adesso prossimamente allo slalom, dici un po'. Sì, penso che Solden comunque sia stata molto positiva come esperienza o prima esperienza, ho dimostrato che ci sono e chiaramente ho perso in qualche punto, però sto bene, adesso in slalom si può fare molto bene, credo che tutta la squadra sia in una grandissima forma e poi la prima gara è sempre un po' così, però è lo slalom, può succedere molto di più che in gigante, però vedremo, penso che siamo in una buona condizione e che mi sento bene, poi mancano ancora due allenamenti e poi proviamo subito a far bene a leve. Quest'Audi ti piace? È bianca così, nuova? Penso che sia bellissima, è sempre un bel rapporto con l'Audi, che ci dà a disposizione queste macchine fantastiche, e proverò a guidar piano anche se non è sempre facile. Va bene.